Ben ritrovati in questo nuovo video training dove parliamo di cornici. Avevo già in precedenza parlato di cornici facendovi vedere che le cornici sono utili per creare appunto cornici, in questo caso adesso prendo i livelli aggiungo magari un nuovo livello e selezionando lo strumento qui vedete cornici posso creare in photoshop o una cornice di cerchio elisse dunque se fosse un cerchio premo il tasto maiuscolo e crea un cerchio senza tasto maiuscolo posso creare anche un elisse e la stessa cosa vale naturalmente anche per il rettangolo tasto maiuscolo è un quadrato senza maiuscolo può diventare un rettangolo e in questo modo possiamo creare la cornice e inserire l'immagine nella cornice e fin qui niente di nuovo. La domanda che mi è stata posta successivamente all'ultimo video training che ho fatto sulle cornici è se è possibile creare cornici di forme diverse di forme personalizzate e ovviamente possiamo fare anche questo ed è anzi molto utile in varie situazioni allora prendo ad esempio qui la finestra delle forme ecco qui abbiamo le forme e qui vedete sono le quattro i quattro gruppi di forme che sono già impostate se volete richiamare le forme delle versioni precedenti potete scegliere forme precedenti e altro ancora e vedete dopo avete qui tutti questi due gruppi di forme le forme del 2019 e quelle tutte predefinite dunque ce ne sono davvero tantissime di forme e io qui ho selezionato una di queste forme che è un cuore ok e allora prendo questo cuore e creo questa forma di cuore e vi faccio vedere come trasformare ad esempio una qualsiasi forma in una cornice allora intanto andiamo a vedere il tracciato vedete qui ho un tracciato di forma ma nei miei livelli vedete che c'è questo nuovo livello di forma e qui basta cliccare sul tasto destro del mouse e convertirlo in cornice clicco e lo chiamiamo appunto cuore 1 e adesso ho questa nuova cornice e dunque basta andare sotto file ad esempio inserisci collegato qui ho una cartella di fiori seleziono un'immagine e questa viene inserita in questa cornice dove appunto il vantaggio della cornice che all'interno della cornice sposto il contenuto ok oppure posso modificare la cornice stessa vedete e dunque sono due concetti diversi la cornice e il contenuto di cornice e chiaramente io da qualsiasi disegno che posso fare da me anche dunque adesso cancello un attimo qui il cuore e ad esempio utilizzo lo strumento penna andiamo a vedere ecco qui prendo lo strumento penna creo una qualsiasi forma adesso non sto a pensare che forma creare qui creo una curvatura e dopodiché riprendo la mia penna e continuo qui vedete e chiudo ad esempio questo adesso è un tracciato di lavoro lo trasformo in un tracciato normale e anche qui vedete di nuovo ho selezionato qui in penna appunto tracciato clicco su forma e questo si trasforma in una forma e dunque anche qui di nuovo tasto destro del mouse e converti in cornice e di nuovo ho trasformato una qualsiasi tracciato che ho creato in una forma e questa a sua volta diventa cornice e dunque la posso trattare come cornice dunque inserire un qualsiasi effetto di cornice vedete dunque ho il contenuto e la cornice come vedete questo è davvero grandioso perché ci apre tantissime possibilità e qui voglio farvi vedere una di queste possibilità e guardate ho preso questa immagine creando poi questo effetto l'effetto è a queste città grandi che consumano tantissima energia e poi potete immaginarvi tutto quello che volete qui quello che mi interessa non è tanto questo quanto farvi vedere come possiamo fondere come possiamo comporre utilizzando e sfruttando le cornici allora come ho fatto in questo caso ho creato la selezione che posso creare tramite strumento selezione vedete qui selezione oggetto automaticamente crea già questa selezione e dunque clicco per attivare la mia selezione e una volta creata questa selezione guardate vado nei tracciati e aggiungo un nuovo tracciato con un doppio clic trasformo questo tracciato di lavoro in un tracciato e poi anche qui torno a selezionare lo strumento penna e per aver attivato di nuovo la forma e dunque clicco su forma e ho creato questa mia forma ok e dunque tasto destro del mouse converto la mia forma in una cornice ok adesso ho questa cornice qui ovviamente avrei dovuto duplicare prima il livello base perché avete visto che creando questa forma automaticamente la forma si è presa già l'immagine sottostante che a limite va bene però mi serve comunque ancora l'immagine sottostante dunque seleziono il contenuto della cornice e controllo comma j duplico il livello e dunque adesso ho il livello sopra però lo portiamo sotto ok e poi qui ho la mia forma che la lampadina e il contenuto della cornice dentro però a questo punto il contenuto della cornice lo cambiamo lo sostituiamo e dunque guardate qui magari prendo qui bridge e prendo questa skyline adesso lo alzo un po tasto destro del mouse e qui vedete posiziona non vedete che l'ultima voce è photoshop dunque adesso viene inserita automaticamente l'immagine in photoshop questa effettivamente un po piccola la ingrandiamo un po controllo comanti oppure modifica trasformazione libera vedete la ingrandisco fino a quando mi serve ok direi che così possa andare bene invio naturalmente così non ha molto senso qui per risolvere la questione abbiamo bisogno di un fondi se e dunque andiamo qui sotto fx opzioni di fusione e scegliamo le opzioni giuste per creare una fusione per coloro che non dovessero saper usare bene o comprendere bene fondi se ho creato un corso apposito che non solo spiega in profondità come funziona il fondi se e come agisce su livello attuale sui livelli sottostante anche sui colori ma soprattutto in tutte le occasioni dove il fondi se diventa indispensabile nell'utilizzo delle fusioni dei livelli dunque un corso molto interessante e molto bello per gli appassionati di photoshop in questo caso qui lavoro sul livello attuale perché chiaramente mi trovo sul livello dell'immagine del contenuto della cornice al riduco la parte luminosa vedete così è già sufficiente e poi sul rosso anche in questo caso ancora però sul livello sottostante faccio trasparire un po di più la lampadina vedete dopo posso sempre regolare la posizione del contenuto che questo è il bello e poi vediamo se sul blu e anche sul blu lavoro sul livello attuale riduco un po la luce su questo livello direi che così possa andare bene per adesso confermo con ok però adesso riposiziono guardate meglio la mia skyline che non era proprio posizionata benissimo dunque direi che così già possa andare bene eventualmente possiamo intervenire ancora sul fondi se per aumentare un po la luminosità ancora vedete riduco un po sul livello attuale il grigio e per avere però le ombre duplico il livello sottostante controllo comma j lo porto sopra e gli applico una maschera nera dunque alt più clic su maschera e poi con un pennello color bianco e un'opacità non troppo elevata aggiungo di nuovo qui le ombre vedete della lampadina ok come vedete con pochissimi passaggi e grazie a questa cornice dove possiamo inserire quello che vogliamo come contenuto siamo riusciti a creare questa composizione molto bella molto interessante facilmente e dunque avete visto che le cornici non solo servono proprio come base di creare una cornice ma servono proprio a livello di compositi per creare dei contenuti nei quali possiamo poi inserire e adattare l'immagine stessa risolato risolato risolato